Senti a me! Ma tu stai angrippando! Ma sto angrippando ma mi senti sicuro? Non voglio farlo! Allora stai a me a sentire! Vaccinati! Vaccinati tu! Ma che taccini tu! Non voglio farlo! Vaccinati! Vaccinati! Ah! Il vaccino! Ah la carne di vaccino! Ah no la carne di vaccino! Il vaccino! Il vaccino! Ah la carne! Ah un latte di vaccino! Ma quello latte di vaccino? No allora se non ti fai il vaccino non possiamo fare l'immunità di Greggie! Ah non ci vuoi vaccino ci vuoi fecorino! Ma che è successo? Ma dai! Ma che è successo? Ma che è successo? Ma dai! Ma non lo so! Non lo so! Ma che è successo? Ma che è successo? Ma devi avere autorità! Fa lettra sì! Senti a me! Senti a me! Senti a me! Di nuovo insieme! Sono venuti! Papi Knight! Adesso e mi chiede! Come lo facciamo! Allora! Non voglio fare! Calma! Eh dottore! Non voglio fare! Calma! Non voglio fare! Calma! Allora! Non voglio fare! Ma sei di sicuro? No dottore! Allora dottore! Ma che è stato fatto? Dottore è stato bello? Bello questo dottore eh! Allora dottore! Allora dottore volevo dire chi si fa il vaccino? C'è il vaccino! C'è il vaccino! C'è il vaccino! Allora fattelo se... Non voglio fare! Non metto paura! È importante! Tu vai là così! Ma nonno o nonno mio è morto! Come è morto! Un anno o nonno! È fattuto al vaccino! È morto! È morto che mangiamo assai secondo me! Noo si mandano ieri gieri che non è buono! No ma loro bevevo! Ma guarda ma chi le si mandano ieri gieri? Che va presse i femmini non sa... Ma guarda ma chi le si mandano ieri gieri? Noi non sono morti i viaggi! Ma chi le si mandano ieri gieri? Come sai voi? Perché è morto? Perché è morto? Che male con io frate! come è importante allora ha detto il telegiornale che con questo lotto solo uno su un milione muore come si fa a capire che sta a morire e poi l'ignorante lo dice la parola lo stesso lotto fanno l'estrazione stai scemo e poi c'è l'ignoranza allora dottore ci dice da spiegare se devi fare il vaccino è importante se tu non fai il vaccino cosa succede una probabilità su un milione per esempio che fai sotto la macchina e muro è più facile e mi è successo, 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 mi è successo i scemo e suon attavano, sono stato scemo e suon attuando ma che c'è la cosa? faccio un esempio, è più facile che piegare una valanga all'acqua ma è successo è successo stiamo corso a Malta non c'è ma corso a Malta ma non c'è una valanga a Malta sono una valanga all'acqua vicina e si può scemo tutto vappo a Malta perché non devo capire che lascia una tigra sono più difficile è mai successo è successo stiamo corso a Malta C'è tanto cosa tu! C'è tanto un ciccoletto, stai a dire! Tutti anni mi salva, tutt'anni mi salva! Tu non devi essere corto, non devi mettere paura! Non devi mettere paura! Io metto paura il vaccino! Ma tu non devi mettere paura il vaccino! Ti devi mettere paura il Giannino! Brava! Anzi, quando hai... Non devi mettere paura il Giannino! Ma tu ingrippi! Che fai? Quando fai l'ultima la cervella! Tuttà! E si ingrippa! Pure a me! C'è, allora... Allora... Pure vinogino, vinogino! Vinogino, vinogino! Perché tu sai... I vaccini conosci... Tu non mi hanno cinque modelli! Quindi non devi fare AstraZeneca! Vattene un anno! Perché... Sono cinque... Sono cinque vaccini! Il primo... Il primo... Tu hai domani a me! Il primo... AstraZeneca! E tu! Primo vaccino! AstraZeneca! E tu! 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 Oooo! Che le piccione ha ganato, non me! Che tu non hai fai malato... Eh! Stanno riprando uno qui sopra! Non lo sa spiegare! Non lo sa... E sb*****! E sb*****! Cioè, nessuno la pizzerò, non ho, devi parlare chiaro, spieghi! Dì già se l'ha fatto il vaccino, quindi non succede niente! Vedi, non succede niente! E tranquilli, se ti fai il vaccino, non è successo niente a chi si succede a te! No, è successo l'occasione! Comunque che bello proprio! Comunque frischio! Comunque, allora, sono cinque, la stra stravza, poi c'è quella pizzer, poi c'è quella moderna, poi c'è quella sputtrig... Scusa, è un momento buono! E poi c'è stato Johnson & Johnson! Sono sei! Johnson & Johnson sono due! Sono sei! Johnson & Johnson, parano tu, è uno solo! Ha buttato le sciamme vicino e ho balzo, sei! Sono sanzi! E' Michael Zom! Chi stai? Chi stai? Chi stai? Ma secondo me è meglio che tu fai il vaccino, questo se l'ha fatto niente! Non mi senti sicuro, non mi senti sicuro! Allora, faccio l'esempio per far capire pure come nemmeno! Allora, mettiamo il caso! Cioè, ho virolo che ha detto che tu... Scusa, no, 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 lancio il vaccino! Allora, metti vicino, sennò chi l'ha capito! Allora, papuscello ha detto, no papuscello, c'è uno più grosso, papuscello! Ha detto che praticamente, faccio l'esempio, se tu non ti fai il vaccino, Tuo nonno può soffrire! Cioè, tu ti devi fare il vaccino per salvare tuo nonno! Hai capito? Chi l'hai? E' un uomere che... Un uomere che conosce la nonna! Non lo so! 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 E' un esempio, cioè! Se salvi te stesso puoi salvare tua nonna! Ma che è? Perché tu uomere che salvare la nonna! Non lo so! Però faccio un esempio, se un malato avvicina e tocca a tuo nonno! No!! E come un malato avvicina al nonna! Non è un malato noto! Non è un malato.. Un malato sessuale! E' un malato nua malata! Ma che lei con me facebook… E' un bello che vieni ampio a quale! 출ne non riusci nero ao nel mai! E' un esempio! E' un esempio, è un supposto… C' arriva pure la sua Dukeanza! 나�! Ma chi ce l'ammise questa esa su nel conjugate? No!!! Io ho Il supposto, no? Chi l'ha fatta su? E' un esempio mischio nero? Non ce l'ha smisi, non c'è ne problema! Ci mi sa il tuo posto! Ci mi sa il tuo posto! E NECEN! E' un'altra cosa! Non è una bici nuovo! Non ha mai capito chi è! Non è una bici più di me, ma non è un po' che vado a uscire rispetto a te! E' un'altra cosa! Non è una bici più! Cande! Antonio e Michele! Ragazzi!